Ragazzi, dopo tre anni di lunga attese, di riposo, ti è tornato nel suo splendore, ha preso il mazzo. E li sto mettendo tutti i face down? Porco Dio. Buonasera a tutti ragazzi, vi parla Nico. Scusate per l'attesa ma stiamo aspettando che Scalabanne decisci. Questa serata, che doveva essere calda, ma in realtà è un po' fredda perché ha piovuto, perché è maggio. Sono qua con il buonissimo e bellissimo Mattia Morigi. Sta giocando da un pochino il nostro bellissimo Cascitira. E domenica abbiamo fatto un bellissimo torneo e lui ha fatto un bellissimo risultato. E dico bellissimo perché quando guardo lui non penso ad altro. E niente, la lista è molto clean ma voglio che me ne parli lui un attimo. Vabbè, buongiorno, buonasera a tutti. Come sapete, a me piace giocare mazzi con dei mostri che hanno livelli alti, quindi mi è uscito a fare Cascitira. Cazzo, tutti i livelli 7, bueno. E voglio dire prendiamolo. Esatto, prendiamolo, prendiamolo. Sì, prendiamo alla profila. Profila pirofila. Di Riebe, classico reparto di figa, tre Fenrir, tre Unicorni, Mono, Arizart, Mono ogre. E io che sono un figlio di puttana, sono misogino, quindi non voglio giocare donne nel mio deck, almeno da archetipo. Gioco due scherpe. Anche a chi piace gli extender. Esatto, a chi piace gli extender. Bestiali. Qua niente da dire, easy, easy, easy. Sono questi. Passiamo alle entra perché già vedo... Passiamo alle entra perché qua abbiamo dei bei gamma, parto gamma. Non gioco i driver perché non lo sguodiamo. Trefshifter. Trefshifter. Va bene, da archetipo. Trefshifter, esatto, da archetipo. Tre Ash. Ricordiamo tutti, carta preferita del parroco di Bocazzano. Questo è nel mio entra. Non mi piace giocare l'Impermanence perché vedo che un po' sto cazzarimida sta sparendo. Va bene che ha dabbile di TTS, ma comunque preferisco giocare altro. Ci fa cagare, vaffanculo. Vai, consistency di bestie. Consistency, sì, quindi terreno. Altra terreno. Sì. Teosi. Carta fortissima. Nascita, non stiamo pari anche a dirlo. Due libri. Due libri. Della Luna. Di Main. Perché vedo che quando li peschi, o anche partendo di primo, sono molto risolutivi a volte. Perché vai a coprire il cazzo che non ti ha scoraggiato. Ma porco Dio che stai. Vai a coprire la roba che ti dà fastidio. Quindi magari nei mirror, soprattutto a Rysart che va a bandire Mongolfiera o altre puttanate varie. E soprattutto come mi teccia il buon Nico, Fenrir e Sergio Skildrain attaccando. Che la fastidio al mazzo. Esatto. La fastidio un po' tutti Skildrain. Quindi va bene. Peschiamo. Peschiamo o non peschiamo. Addiamola quella carta. La diamo, porca mia puttana. Sì. Giochiamo le TTT. E due TTS. Giusto. Quindi abbiamo tantissime cose da andare a rubacchiare nel mazzo. Il Bontia ha deciso che, piuttosto che troppe entrap, anche di secondo. In questa versione qua. Perché mi riesco ad andare a cercare milla cose piuttosto che per scala. Esatto. Perfetto. Trappoline. È giusto. Vegeta e preparazione. Sì, sì, sì. Tanti non la giocano preparation, ma io vedo che è molto, molto buona. Soprattutto con i control e anche con Naturia perché parte in risoluzione ad effetto di albero e li vai magari a bandire coperta la blessing che si sono date o altre minchiate. e chissà, naturalmente alla blessing di solito. Quindi me è infinito. Passiamo all'Uxtra. Vai. Io, per di me, perché non giocarmi. Why not? Due mongolfiere. Bocchione gigante. Sì. Dracosac. Sì. Che ogni tanto è situazionale, però magari va bene per far scoppiare roba. Magari, avendo già usato il Dark Armored, questo può essere risolutivo. Botti. Non ci devono essere. Perché no? Esatto. Non ci devono essere, però se serve ce l'abbiamo. Sto cazzo. Diablosis è fortissima, infatti penso che un Banned. Sì, esce, magari. Sì, esatto, se esce. Andrò al baretto, mono di questo. È fortissimo, soprattutto in main 2. Perché tu attacchi, fai tutto il cazzo che vuoi, fai sta roba qua e pulisci. Pulisci. Zeus, mono. Perché, boh, ho il brutto vizio di non rispettare Zeus, sia farlo che subirlo. Lo stiamo ancora testando, però. Stiamo ancora testando, però comunque, se sono nella merda, un Xyz a caso, attacca. Soprattutto con Dark Ruler, che andremo a vedere dopo di side. Dark Ruler, due livelli 7, Xyz, ci facciamo sopra Zeus. Puliamo tutto e ripartiamo con nascita e altre minchiate. Syncro, Omega, diciamo le Gamma a cazzo di fare. Un Z, perché non ho garura. O quel deficiente di fossili. Link, Bagusca e Golia per rendere rispaccabile Arizart. Sto cazzo, sì. Side, side particolari, quindi dito nel culo rosso. Fantastico. Te lo vai a star share di TTS, guardi la mano, banni uno, trigger Arizart. Fantastico. Andiamo a rubargli di Arizart quella che abbiamo bannato, non sarà ripigliato a posto. Sto cazzo. Due barrier, due barrier, perché c'è TTS, quindi te la vai da dare. Che stiamo pensando di mettere dentro. Esatto, di cambiare. Però, vabbè, ora che è il Nuts, quindi tra una settimana o più, cambierò la distante 28 volte. Vedrete l'appo, insomma, fai con noto però. Due fulmini. Sì, spolverino. Spolverino, sempre da dare. Sempre, sempre lì, sì. A casa c'è la PlayStation 5, quindi perché non giocarlo, metti Bagusca in attacco, ti togli il capo, togli tutto. No, è versatile. Poi vai a rubare roba, togli il target. Ci piace, ci piace. Però Dark Ruler, anche questi stracciabili, molto fighe appunto per prima. Dark Ruler, i livelli 7, Zeus, pulisci tutto. E via, e via, e via. E i golem. I golem, per la mia fortuna, perché quando mi servono gli pescono anche doppi, quindi cazzo non mi faccio tutto. La skill di Tia ce l'ha sempre in mano. Ce l'ha sempre in mano, questo cazzo di golem. Se non è la Shindir, è golem di lava e, meno male, la sida è questa. Ma è la mia prima volta di profile. E l'abbiamo sverginato. Esatto, anche se il primo video doveva essere nel mio profile di Tandra, di tempi. E niente raga, io dal buon Nico, dal buon Tia e da tutti gli altri membri del nostro team, tra cui Samu e Andre, che in questo momento mi stanno toccando le palle. Vi salutiamo e vi auguriamo una buonissima notte. Ciao ciao. Ciao 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 ciao.